Con l'ultima ordinanza regionale, firmata venerdì dal governatore Marco Marsilio, i comuni di Città Sant'Angelo e Montesilvano si lasciano alle spalle le restrizioni che avevano caratterizzato l'arancione rafforzato, colorazione in cui per varie settimane si era ritrovata l'intera area metropolitana di Pescara Chieti per cercare di contenere la curva epidemiologica del contagio da Covid-19. Questa colorazione se la lasciano da oggi alle spalle anche questi due comuni che sono stati gli ultimi a rientrare in una più comoda zona arancione. E che cosa significa tutto questo? Significa che i negozi che erano rimasti chiusi in arancione rafforzato potranno riaprire su tutti abbigliamento uomo-donna, calzature, accessori e gioiellerie. E allora con la telecamera di Andrea Berardinelli, oggi lunedì 29 marzo 2021, giorno in cui entra in vigore precisamente l'ordinanza di Marsilio, siamo venuti a Montesilvano a dare voce ai commercianti. Recuperare è impossibile, se volete vi porto anche il magazzino, come dicevo la stagione è andata. Con i brand che abbiamo i nostri magazzini sono come l'aspirina, per cui dopo un po' scadono. Allora siamo stati chiusi un mese e mezzo, ci faranno stare chiusi a Pasqua, pertanto abbiamo passato non solo l'anno ma anche la stagione di Pasqua, anche il periodo pasquale. Quindi che dire? Si prova comunque a ripartire. Quello sempre, diciamo che mentalmente non abbiamo mai smesso anche perché se vedete il negozio è pieno di merce. Questa mattinata di riapertura com'è andata? Allora questa mattinata è andata abbastanza bene, abbiamo avuto clienti che ci aspettavano per fortuna, sono venuti ad acquistare qualcosina, ma più che altro per dare veramente un aiuto ai piccoli negozi. Perché abbiamo avuto parecchi clienti che sono venuti con lo scopo di aiutare a liberare il magazzino che purtroppo è stracolmo di articoli invernali invenduti. E questo è un problema grosso di tutte le attività che lavorano con il programmato, cioè fanno ordini l'anno prima. Abbiamo magazzini stracolmi di merce che l'anno prossimo non varranno se non la metà della metà del valore attuale. Ed è un problema grosso anche per gli aiuti perché questo fa in modo che il magazzino a livello statale non è una perdita, ma è un capitale. E invece per noi è una grossa perdita di articoli che devono essere pagati e rimangono sul groppone. Gli ultimi giorni di saldo vi potranno aiutare a togliere un po' di invenduto dal groppone? Noi ci auguriamo che ci possa aiutare, però ovviamente vendere una scarpa che vale 120 euro a 40, 35, 40 euro è comunque una grossa perdita. Ci darà un po' di liquidità per ripartire, però comunque è una perdita grossa che abbiamo. Cioè meglio venderle sotto costo che tenersele, però comunque è un grosso danno. Grazie. Grazie. Grazie.